Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, un'edizione purtroppo in cui dovremmo parlare a breve di un incidente mortale questa mattina attorno alle 7 in via Pomposa a Ferrara dove è morto un ciclista di 62 anni, ne parleremo a breve ma parleremo anche della situazione difficilissima che sta vivendo tutto il settore metalmeccanico ferrarese rappresentato dal Regal Rexnord, la Tolloc di Masitorello dove sono stati annunciati ieri 77 licenziamenti di persone che avrebbero ricevuto, come riportano i sindacati, una mail, una PEC in cui sono stati comunicati licenziamenti, c'è uno stato di legislazione in atto, un presidio davanti allo stabilimento e uno sciopero. Domani mattina è previsto anche un presidio davanti alla sede di Confindustria in via Montebello per sostenere la causa per andare contro i licenziamenti e anche sostenere i sindacati che saranno impegnati in una vertenza con la società ma in parallelo anche a Berco, a Copparo si sta registrando una situazione molto difficile come hanno detto i sindacati ma soprattutto come ha detto l'azienda che si vede costretta ad annunciare degli esuberi, questo succede nel Coparese, una situazione in via di definizione che purtroppo però getta nello sconforto diverse persone, diversi lavoratori in un settore come ha detto quello metà un meccanico in difficoltà. Ma a tutto questo si aggiunge anche la cronaca come ha detto ma anche la politica. In questa edizione torniamo a parlare delle elezioni regionali e della candidata Elena Ugolini che ha lanciato il suo programma sulla sanità in vista delle prossime elezioni regionali di novembre. Quali sono i punti cardine che lancio? Li sentiremo a breve. In questa edizione parleremo ancora di economia con la Camera di Commercio che ha fatto un'analisi del sistema culturale che registra una crescita del valore aggiunto e dell'occupazione. Poi spazio anche agli eventi ma spazio anche alla SPAL perché ieri sera durante il lunedì sport in onda su tele stesse è intervenuto come ospite il direttore tecnico della SPAL Alex Casella che ha parlato della recente vittoria sul Rimini e l'ha definita una boccata di ossigeno dopo le sconfitte precedenti ma ha parlato anche del futuro dei bianco-azzurri e soprattutto del futuro in chiave mercato in vista del calcio mercato che aprirà col nuovo anno a gennaio che potrebbe regalare forse anche una punta tanto auspicata dai tifosi ma anche dagli addetti ai lavori ma sentiremo a breve cosa ha detto appunto il direttore tecnico Casella. Ma torniamo indietro e apriamo purtroppo con la cronaca nera e parliamo dell'incidente mortale avvenuto martedì mattina in via pomposa a Ferrara vicino all'incrocio con via dei Tigli un uomo di 62 anni di origine romena ed è ceduto mentre era a bordo in sella la sua bicicletta mentre è stato investito da una Fiat 500 L un impatto definito violento da chi sta ricostruendo l'accaduto ovvero la polizia locale un impatto che ha provocato lo sfondamento del parabrezza dell'auto e la caduta del ciclista in un fosso a bordo strada. Sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla per il 62 se non constatarne il decesso e appunto la polizia locale è intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico che ha subito rallentamenti con senso unico alternato in un orario quello appunto delle 7 della mattina molto trafficato in via pomposa. Comunque la dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. E adesso apriamo l'ampia pagina dedicata alle crisi aziendali che stanno interessando il ferrarese in particolare il settore metalmeccanico ed è fortissima la preoccupazione per i 77 dipendenti a rischio di licenziamento alla Regal Rexnord Tolloc di Masitorello. Domani come detto il presidio davanti alla sede di Confindustria in via Montebello ci sarà anche e continuerà lo sciopero ma intanto diversi gli attestati di solidarietà nei confronti di queste decine di persone solidarietà espressa anche dall'arcivescovo di Ferrara e comacchio Monsignor Giancarlo Penego. Sentiamo e ricostruiamo tutto nel servizio. Continua il presidio dei lavoratori della Regal Rexnord Tolloc di Masitorello davanti ai cancelli dello stabilimento annunciati tramite mail 77 licenziamenti per altrettante persone che da lunedì sono in sciopero per manifestare tutta la loro preoccupazione per il loro futuro e che esprimeranno anche mercoledì mattina davanti alla sede di Confindustria a Ferrara in via Montebello in concomitanza con l'incontro che si terrà per l'avvertenza. Tante le manifestazioni di solidarietà nei confronti dei lavoratori anche da parte dell'arcivescovo di Ferrara e comacchio Monsignor Giancarlo Perego il quale si augura che i vertici aziendali rivedano le loro scelte conservando la produzione nel territorio ferrarese e tutti i posti di lavoro. Forte preoccupazione anche alla Berco, storica azienda di Copparo, leader mondiale nella produzione di sottocarri che ha annunciato un rilevante numero di esuberi resi necessari dalle difficili condizioni di mercato e dal contesto geopolitico globale, riportano da Berco. Nonostante gli sforzi per ridurre i costi operativi, dicono dall'azienda, la Berco si starebbe preparando a intervenire anche sul contratto integrativo aziendale eliminando alcune parti economiche per l'azienda. Queste decisioni che definisce difficili sono mirate a garantire la stabilità futura di Berco e a rafforzare la sua posizione. I sindacati stanno intervenendo da giorni sulla questione, hanno incontrato i lavoratori, hanno incontrato la stampa per lanciare l'allarme su questa situazione e si saranno presto aggiornamenti. Fanno sapere, intanto, anche la giunta comunale di Copparo oggi, martedì, ha aperto i lavori con un'analisi approfondita della situazione. Una crisi che porta con sé una forte preoccupazione per il futuro di un gran numero di lavoratori e delle loro famiglie, ha detto il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni, che convocherà una conferenza dei capigruppo consigliari sulla vicenda. Ed è una vicenda su cui è intervenuta anche la politica dal punto di vista del centro-sinistra attraverso il Partito Democratico. Siamo di fronte a uno scenario che definire angosciante sarebbe riduttivo per Copparo, ma anche per tutto il territorio. Ad affermarlo è stata Marcella Zappaterra insieme a Enrico Bassi, rispettivamente capogruppo del PD in Regione Emilia Romagna e consigliere comunale Bassi, sempre del PD a Copparo, entrambi impegnati nella campagna per le imminenti elezioni regionali. Quindi una vicenda, quella della Berco, che tocca anche la politica, ovviamente. A proposito di politica, la candidata civica alle elezioni regionali. Elena Ugolini ha lanciato ieri il suo programma sulla sanità per il futuro dell'Emilia Romagna. Continua la corsa per arrivare alle elezioni prossime del novembre per il rinnovo della regione, appunto per il governo della regione. Elena Ugolini è intervenuta così in merito a un tema molto sentito, quello sanitario. Vediamo che cosa ha detto. Presentato nella sede elettorale bolognese della lista civica, il piano di riforma proposto dalla candidata, sostenuto dal centrodestra Elena Ugolini, piano che prevede 15 punti, tra i cardini delle proposte, centralità della persona, sostenibilità, innovazione e nuovo modello di governance regionale. Finché continuiamo a raccontarci che siamo i primi in tutto, tra cui la sanità non guarderemo mai alla vita reale e alle richieste dei cittadini, ha commentato Ugolini, secondo cui bisogna realizzare una grande riforma del servizio sanitario regionale, partendo innanzitutto da un nuovo metodo basato sulla presa in carico dei cittadini. Ma quali sono per Ugolini i punti principali del programma della sanità? Ascoltare gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri e tutte le professionalità del mondo sanitario per ridisegnare un servizio che si forme sulla fiducia nei loro confronti e su un'organizzazione che permetta veramente la presa in carico dei pazienti. E ora parliamo di una grande festa di famiglie e volontari, quelli dell'associazione Dammi la mano che da vent'anni accompagna le famiglie adottive e affidatarie della provincia di Ferrara e lancia un appello per la ricerca di nuove famiglie e volontari. Sentiamo. Aiutare famiglie interessate a percorsi di affido e adozione. È la missione dell'associazione Dammi la mano che supporta da vent'anni le famiglie adottive e affidatarie della provincia di Ferrara e che lo scorso 6 ottobre ha celebrato l'anniversario con una festa. L'associazione con il presidente Marco Cappellari, oltre a promuovere il volontariato accogliente, un'opportunità per chi desidera donare il proprio tempo ai bambini, lancia anche un appello per nuove famiglie e volontari, coppie e single, offrendo il supporto e informazioni attraverso gruppi di mutuo aiuto e incontri mensili. Il volontariato accogliente, spiega Cappellari, consente a chiunque di donare un po' del proprio tempo per aiutare bambini, ad esempio assistendoli nei compiti o accompagnandoli in attività ricreative. Famiglie come punti di riferimento, duraturi per i bambini e ragazzi in situazioni difficili. Dammi la mano che negli anni ha registrato un numero crescente di famiglie adottive nella provincia estense e il loro impatto positivo nella comunità, parteciperà alla festa del volontariato che si svolgerà il prossimo 12 ottobre a Ferrara per sensibilizzare sul tema. Torniamo all'economia. Nel 2023 a Ferrara e nella provincia estense sono cresciuti sia il valore aggiunto sia l'occupazione nel sistema produttivo, culturale e creativo, a dirlo, è il quattordicesimo rapporto. Io sono cultura realizzato, tra gli altri, anche da Union Camere e patrocinato dal Ministero. Per ogni euro di valore aggiunto prodotto dalle attività culturali e creative se ne attivano altri 1,8 in settori economici diversi, ha spiegato il vicepresidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, Paolo Govoni, che sentiamo. Cultura e arte non solo promuovono una crescita economica, ma anche una crescita equilibrata che sostiene coesione sociale, senso di appartenenza e rispetto per l'ambiente delle persone. Benché il benessere non si misuri solo in termini di PIL, cultura e arte influenzano anche l'economia, come dimostrano i legami con il turismo, l'uso delle tecnologie innovative nei musei e il ruolo della creatività nell'industria. Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, ha commentato così i risultati del quattordicesimo rapporto Io sono Cultura, evidenziando come questo settore sia un attivatore economico significativo nella provincia di Ferrara, dove la filiera culturale ha visto un'importante crescita nel 2023 sia in termini di valore aggiunto che di occupazione. Questo settore, che coinvolge oltre 8.000 imprese e numerose organizzazioni no profit, contribuisce anche all'evoluzione verso modelli di sviluppo sostenibili e innovativi, come l'impresa 5.0, che promuove la cooperazione tra uomo e macchina. La cultura, insomma, conclude il vicepresidente, è un fattore di innovazione che può offrire nuove opportunità nell'era dell'intelligenza artificiale, rendendo i prodotti tecnologici più attraenti e unici. E a proposito di cultura, entra nel vivo a Ferrara il progetto Gewell's Tour, che esplora il potenziale turistico del patrimonio storico e culturale ebraico nelle città d'Europa. Un progetto proposto dal comune di Ferrara, quale ente capofila di un'accordata europea fondata da sette città. Il progetto è stato cofinanziato con fondi europei per un totale di quasi 2 milioni di euro. Il primo meeting tra i partner si terrà a Ferrara ai prossimi 15 e 16 ottobre, come è stato detto in conferenza stampa. Questa mattina rappresenterà un'occasione di condivisione della ricchezza custodita nella storia della comunità ebraica della città estense con altre realtà europee. E ora parliamo di un appuntamento in cui si approfondisce il tema dei disturbi del comportamento alimentare attraverso un rapporto più consapevole con il cibo ed è questo l'obiettivo su cui si incardina il progetto Il Cibo e i 5 Sensi, che si svilupperà in tre giornate al centro, la ginestra a Cocomaro di Focomorto, aperte gratuitamente a circa 20 partecipanti a queste giornate tra persone con disturbi del comportamento alimentare e i loro caregiver. Una situazione, un progetto, un'iniziativa presentata questa mattina in comune a Ferrara, come avete visto dalle immagini alle mie spalle. E ora però cambiamo argomento e parliamo di SPAL. Ieri sera nel consueto appuntamento televisivo con Lunedì Sport, ospite speciale della serata, il direttore dell'area tecnica Alex Casella a Telestense per parlare della recente vittoria sul campo del Rimini che ha definito una boccata d'ossigeno ma è intervenuto soprattutto sul futuro bianco-azzurro anche in ottica mercato e parco attaccanti. Sta parlando ovviamente, ha parlato del calcio percato di gennaio, non ha nessuna intenzione, è stato detto di prendere dei giocatori, degli attaccanti dagli svincolati, ma di tutto questo si parla appunto nella puntata di Lunedì Sport che trovate disponibile sul canale YouTube della TV di Ferrara. Noi insieme ne vediamo un estratto per capire appunto come si sta muovendo il direttore tecnico Casella della SPAL. Veniamo a casa con una prestazione che ha avuto degli alti e bassi all'interno della stessa gara, la cosa più importante era tornare alla vittoria, visto che ci mancava a livello di giorni da una settimana, però a livello di partite da ormai quasi tre gare perché l'ultima fatta in casa con il Carpi poi successivamente avevano avuto due sconfitte che comunque mentalmente pesano, pesavano e quindi non era scontata la vittoria di Rimini che arrivava da tre vittorie consecutive. Quindi sicuramente questo permette e permetterà di fare una settimana positiva, una settimana dedicata al lavoro, alla preparazione del campo basso ed è la maniera migliore per affrontare una settimana lunga, quindi come quella che ci apprestiamo ad affrontare in questi giorni. Allora ci chiedono, Sovrani chiedi a Casella se è soddisfatto della campagna acquisti degli attaccanti? Sicuramente ripeto, di quelli che ci sono oggi possiamo fare molto meglio, stiamo avendo a numeri, perché poi i numeri ci dicono che siamo una squadra che tanto ha costruito, tanto realizzato e quindi se abbiamo un problema tirando una linea delle prime parti di campionato non è nel reparto offensivo dove abbiamo concretizzato molto. Io penso che obiettivamente da se stesso bisogna sempre pretendere di più e sicuramente si poteva fare meglio, potevamo magari completare meglio l'organico, però ritengo che comunque la nostra squadra sia una squadra che può far gol contro chiunque e può mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo ancora Bidawi che non è in una condizione secondo me ottimale per far la differenza, cosa che lui può e deve fare sicuramente e quindi abbiamo un'altra freccia nell'arco. Poi la stagione è lunga, ci sarà ancora un mercato davanti, vedremo un attimino da qua a gennaio quello che succederà e sicuramente se è una cosa che posso dire, che nei colloqui che vengono quasi quotidiani anche con il presidente della proprietà, la proprietà è presente, quindi se ci sarà opportunità di intervenire ancora non si tirerà sicuramente indietro, però ecco, sono come detto magari prima nella mia visione, sempre vedo il bicchiere mezzo pieno perché è una squadra che ha fatto tutti questi gol in questa parte di campionato, ce ne sono pochissime, non solo nel nostro girone ma in tutti e tre. Quindi si poteva far meglio? Sì, sei contento di quello che sto fatto? Comunque sì per i risultati che oggi ci sono. Vedremo appunto questi risultati forse già in campo dalla prossima partita, domenica 13 ottobre quando si giocherà a SPAL Campobasso, una partita che potrete seguire in diretta con match su Telestense con Nicola Franceschini e i suoi ospiti, quindi c'è attesa per questa sfida, per vedere appunto se la vittoria sul campo del Rimini è stata appunto una vittoria costruita in questo progetto bianco-azzurro oppure ci sono ancora degli interventi da fare, ma di questo se ne parlerà nei prossimi telegiornali e nelle prossime puntate di match e lunedì sport per questa edizione invece del telegiornale è tutto, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.